...Federali, Denouil, Troietti, Focillo, Santini e Carcassi ed un ringraziamento anche a Cefalo che è il segretario delle agenzie fiscali. Tutino, Angelinis, De Gasperi, Di Nicola, La Padula, Mazzillo, Miniati, Rinforzi, Romano e Sestini hanno ricordato Giancarlo ci hanno fatto scoprire anche molti aspetti, molti interessi, molte inventive di Giancarlo, persona così podietrica, così piena di interessi che non si...